ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easy arp allora oggi vi voglio parlare di dove trovare i ricambi per le armoniche in particolare delle armoniche oner perché ogni marchio ha poi i suoi canali insomma per trovare i ricambi se usate armoniche oner adesso vi faccio vedere ecco qua esiste il c shop il c shop della honor vi lascio il link qui sotto in descrizione chiaramente comunque se cercate oner c shop su google trovate la home esiste sia la versione dedicata all'area statunitense sia l'area europea che ha sede in germania allora cosa c'è sull'owner c shop praticamente tutto c'è tutto quello che riguarda i ricambi quindi non trovate le armoniche intere ok però è insomma sicuramente è molto utile avere un riferimento quando si ha necessità di sostituire anche solo un pezzetto anche solo una vite adesso vi faccio vedere anche come trovare proprio le ance sciolte ma magari avete un'armonica cromatica e si è rotta la molla per intenderci o il pernetto e allora come si faccia si spera di non dover sostituire lo strumento intero per un solo singolo elemento allora nell'owner c shop dicevo trovate praticamente tutto quindi sotto il menu armonica se andate per esempio Richter diatonic ok per esempio Richter diatonic qui trovate praticamente i vari modelli di armonica quindi magari 7 cercando un elemento in sostituzione alla vostra marine band del axe ma quindi scegliamo marine band del axe e qui trovate praticamente tutto quello che vi può tornare utile ok abbiamo i corpi le le cover le custodie tutte le varie viti i set di viti per fissare per esempio le piastre al corpo le coppie di viti per invece fissare le cover le piastre di ricambio intere ok questo è il set due piastre superiore inferiore nuove quindi potete per esempio se vi si rompe un'ancia o comunque un'ancia non funziona più anziché comprare lo strumento nuovo potete sostituire solo le parti insomma che interessano in questo caso le piastre e la vostra armonica torna praticamente nuova poi ci sono anche i set qua i set proprio con sono dei set interi di ance divisi per tonalità che per esempio la e qui insomma è un set intero per una singola tonalità quindi troverete più ance tutte le ance di quella tonalità questo può tornare utile se fate manutenzione alle ance singole le sostituite spesso quindi siete dei manutentori non siete magari dei semplici appassionati di armonica per questi sono lavori un po delicati non per tutti ok magari potete risparmiare acquistando dei set interi tornando indietro per esempio la nostra marine band deluxe eccola qua marine band deluxe come vedete avete proprio tutti gli elementi qua abbiamo i set delle piastre si sceglie la tonalità per esempio la ok vedete nel carrello e fate un ordine come da qualsiasi sito di commerce poi oppure è per esempio avete un armonica cromatica chromatic models una cromonica 270 deluxe ok e qui vedete tutto quello che è disponibile quindi potete sostituire le due piastre della della cromatica quindi riportarla praticamente a nuovo darete una pulizia da tutti gli altri elementi ma praticamente l'armonica torna nuova oppure il corpo oppure le cover il registro l'imboccatura la custodia vedete qua la molletta e che a me è capitato che se ne rompesse uno la molla proprio per il tasto del registro ecco qua vedete in questo momento 3,04 euro sostituite magari soltanto quell'elemento e la vostra armonica torna a suonare il vostro registro torna a suonare come prima tutti gli altri elementi le viterie quant'altro ok chiaramente trovate di tutti gli tutte le armoniche in tutti i modelli parlando di diatoniche special venti per esempio anche qua vedete il corpo tutti gli elementi tutti gli elementi adesso vi lascio anche se siete come me che magari fate manutenzione alle armoniche e sostituite anche anche le ance ma ripeto questo è un lavoro un po delicato che quindi veramente non è per tutti ho imparato a farlo tempo fa per le mie necessità per sostituire le ance che si rompevano le mie armoniche e quindi anche risparmiare dei soldi comunque se andate qua armonica rizzer in questo momento prima con che qualche tempo fa non c'era il la voce rizzer bisognava passare di traverso era un po più complicato arrivarci adesso se rizzer e scegliete il quello che a voi interessa della serie marine band si tutte le ance della owner delle diatoni che rientrano nella serie marine band ricordatelo quindi nella serie marine band qui vedete abbiamo praticamente tutte le tonalità disponibili in questo caso partono dal low low f fa basso basso poi logi eccetera eccetera se diamo per esempio voi noi vogliamo cercare un'armonica in la eccola qua gli toni che standard hitter tuning a ok a questo punto andrete a cercare blow drop blossa per la soffia dropper sta per aspira questi sono i fori per esempio dovete sostituire il quarto foro aspirato in armonica in la andrete su draw 4 punto la nota è sì cliccate sopra b4 e vi si apre proprio la voce dedicata e quindi ci sono praticamente c'è un set di cinque ance che potete utilizzare per sostituire lancia danneggiata ok quindi viene dato un pacchettino con un set di cinque ance proprio tutte uguali quindi vi rimarranno anche delle scorte questo è sicuramente molto utile io lo faccio quindi torna mette chiaramente è un e commerce in questo caso quindi mettete nel carrello fate l'ordine poi ci saranno i costi di spedizione i tempi di attesa però vi posso dire che in tempi di attesa per la spedizione però normalmente in un paio di settimane vi arriva tutto a casa altra cosa potete guardare per esempio service accessories ecco questo è il kit intero che però non vi viene venduto ma presenta su tools e qui trovate tutti i vari attrezzi che possono servire per la manutenzione immagino che la maggior parte di questi attrezzi siano contenuti nel kit intero però se vi serve un attrezzo particolare o in sostituzione magari un attrezzo che già avete che non funziona più tanto bene occhio che ci sono questa è la pinza più cara del mondo poi magari fare un altro video dove vi spiegherò un trucchetto che abbiamo elaborato io e alex blues art per creare una pinza economica che praticamente svolge la stessa funzione questa pinza serve per sganciare lancia rivettata quindi spinge fuori il rivetto praticamente una foratrice con dove il punteruolo al diametro giusto per spingere fuori il rivetto però il costo e non costavano così questi questo accessorio in particolare questo attrezzo non costano così caro tempo fa poi tutti i vari marchi sono un po impazziti e questo attrezzo l'hanno fatto diventare carissimo ma dal mio punto di vista è assolutamente esagerata questa questa spesa ok detto questo chiaramente troverete anche tutti i vari attrezzi che vi possono servire e se andate sempre su un utilities ci saranno altri elementi antiferament le valvole per le armoniche cromatiche insomma veramente c'è di tutto quindi l'owner c shop è una vi dovrete registrare dovete creare il vostro account per poter concludere il l'acquisto ma comunque vi permette di sostituire qualsiasi qualsiasi elemento della vostra armonica piccolissimo accenno farà un video dedicato se invece utilizzate armoniche side il corrispettivo del c shop della owner è proprio il sito della della side si tratta di un vero e proprio e-commerce e sito ufficiale del del marchio side ma qui potete acquistare sia le armoniche nelle diverse tonalità e sia tutti i ricambi su se cliccate su products e shop avete a disposizione tutti i modelli di armoniche diatoniche cromatiche ma anche equipments parts eccetera se cliccate qui trovate praticamente poi a cascata tutti i vari menu che vi portano al all'elemento specifico questo è molto utile se invece utilizzate le armoniche side ma ripeto farò un video dedicato a parte bene questo era il video di oggi spero che ti sia piaciuto che ti sia utile se per caso devi trovare degli elementi dei pezzi di ricambio per la tua armonica se non sei già iscritto al canale beh ti invito a farlo adesso iscriviti ora clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video se ti è piaciuto il video lascia il tuo like segui easy arpa anche su facebook e instagram iscriviti al canale telegramma di easy arp vai a curiosare su easy arp store mio negozietto di magliette l'amazon shop di easy arp dove trovi prodotti spediti e venduti da amazon per tutti gli appassionati di armonica e soprattutto se non hai già fatto ti invito a visitare easy arp 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it dove trovi un percorso didattico completo guidato all'apprendimento di tutti i segreti dell'armonica blues ricordate che impara suonare l'armonica è facile con easy arp take it easy take it easy arp ciao saluto a tutti